Si svolta a Bologna la conferenza nazionale GIMBE, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, per fare il punto sullo stato di salute del nostro servizio sanitario nazionale e in particolare sui livelli essenziali di assistenza, ancora oggi non accessibili a tutti. Bisogna entrare nell'ottica che la crisi di sostenibilità non si può guarire con un intervento mirato, puntuale, banalmente anche solo con l'incremento del finanziamento pubblico, ma c'è necessità di rivedere in maniera profonda le modalità di erogazione e organizzazione dei servizi sanitari, facendo anche dei nuovi patti di tipo sociale e con i pazienti, perché oggi il consumismo sanitario inevitabilmente è un'altra delle problematiche che condiziona la sostenibilità del sistema pubblico. Durante la conferenza alla ricercatrice Elena Cattaneo è stato conferito il premio Evidence 2018 per il suo continuo impegno a sostenere la necessità di un sistema ricerca Italia adeguatamente finanziato, gestito in maniera trasparente e basato sulla meritocrazia. La scienza è semplicemente un metodo per indagare come stanno le cose intorno a noi, è il miglior metodo di cui disponiamo per capire, per conoscere e anche per prendere provvedimenti che si spera facciano star meglio più persone possibili.